ed eccoci ragazzi in un nuovo episodio di super market simulator iniziamo continuiamo questa partita acquista una licenza prodotto usando il computer ok però siamo a 218 dollari vediamo un po che manca olio c'è allora mettiamo aspetta un attimo vediamo cosa manca cereali ci sono c'è un po di tutto però compriamo gestione licenza di prodotto acqua in bottiglia formaggio caffè eccoci qua una nuova licenza del prodotto acquisto un frigo e uno scaffale però abbiamo la farina l'acqua in bottiglia formaggio caffetta e nero latte e uova allora uno scaffale devo fare un po di soldi apriamo il negozio ragazzi aspettiamo i clienti qua abbiamo i fornimenti dai ragazzi su su forza finite ma qua c'è un magazzino che ancora un primo cliente primo cliente dai amico 67 perchè si che è un po di soldi qui sono altri due ragazzi su questi colori anche da un po di soldi a un po di soldi che è un po di soldi che è un po di soldi ragazzi 4.6 amico ho sentito un po di soldi che si è un po di soldi acquista un frigo e uno scaffale però devo andare a 200 dai vieni qui signore grazie livello negozio 14.36 perché oggi tutti con la carta 9. oggi tutti con la carta arriva signorina arrivo non riesco a trovare eh sì fammi comprare il frigo se non mi fai comprare il frigo dai su forza signorina forza cosa è che manca i cereali stanno quasi finendo 21.78 vado a comprare i cereali arrivo 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 31.61 sciamico 8.46 vai così signorina spenda spenda 1 euro 1 euro e 93 1 euro 1 dollaro 2 euro Aspettimi, lasciamo mica, 24.84, volevo scattolare, hai, 19.14, 34, 27.76, vale, prendiamo il frigo, arrivo, 17.45, arrivo un attimo signorina, 18.32, 84.16, e da dieci, 4.90 7.18 ops 11.14 7.42 5.40 ok ragazzi prodotti non trovate 10 lo so ma adesso li compriamo mazza mi è finita un po' di roba e su su allora che manca? cereali olio pasta e prendiamo l'acqua in bottiglia il formaggio e il caffè se non ce la fa devo togliere il coffee ok se quanta roba ah il frigo il formaggio questo è il formaggio il formaggio è 3.40 l'acqua mettiamo le due di acqua 2.66 l'olio l'olio la pasta e i cereali ok direi che possiamo iniziare un nuovo giorno un nuovo giorno andiamo ragazzi andiamo ragazzi andiamo ragazzi e 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